Grazie, bentornata la senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, ovviamente per l'opposizione. Ho l'impressione sia di tutt'altro avviso. Non vedo cosa gli dia questa impressione. Ho usato un eufemismo. Allora, vediamo di capirci, perché qui stiamo parlando di una vicenda di una cittadina italiana che è in carcere in Ungheria, che dovrebbe essere un paese dell'Unione Europea, da 13 mesi. Cioè non è entrata in carcere ieri, perché da come sta parlando l'ex sottosegretario della giustizia Morrone sembra che è entrata in carcere ieri e si fa un disastro, però non mi interrompa Pancani, la prego. No, no, lo dico il giudice, l'ha detto ieri. Quindi sta in carcere in condizioni inumane, certificate addirittura con scarafaggi, sporcizia, impossibilità di lavarsi, da 13 mesi. Sì, da poco le condizioni sono migliorate, non credo che ora sia in un albergo a 5 stelle, ma a quanto pare almeno gli scarafaggi non ci sono più. Non c'è ancora nessun grado di giudizio formalizzato, quindi ancora non si sa, non si sono pronunciati, se ci sia effettivamente colpevolezza o meno, cioè sta lì ad attendere. Mi pare di capire che chi dice non politicizzate la questione, intenda dire zitti, non fate vedere in che condizioni versa è l'area Salis, non fate vedere che Orban è normale. Sottolineiamo questo, non è che perché gli istanti pati che l'area Salis a Orban o al sistema penitenziario dell'Ungheria la porta in catene. Fanno con tutti così. Quindi l'area Salis diventa a suo malgrado una denuncia di ciò che già sappiamo se soltanto vogliamo usare i nostri occhi, ossia che l'Ungheria è scivolata da uno Stato di diritto a uno Stato dove il diritto è diventato estremamente arbitrario e i diritti civili, umani e la dignità della persona sono in una condizione critica. Questo non si doveva sapere, è questo che infastidisce Orban, l'amico di Meloni, ed è per questo che Orban non va incontro, perché sarebbe un'ammissione di colpevolezza rispetto alla sua posizione su queste condizioni che sono precondizioni per stare all'interno dell'Unione Europea. Non sono dati accessori che un paese deve rispettare, sono precondizioni. Seguendo il suo ragionamento le chiedo una cosa, adesso mettiamo da parte per un attimo quello che ha fatto, sta facendo, farà il governo italiano, al netto anche delle polemiche. Secondo lei l'Europa si sarebbe dovuta far sentire di più, diversamente? Io credo che il fatto che si vada incontro alle elezioni europee non aiuti, perché ciascuno si guarda, purtroppo, i propri interessi, piuttosto che gli interessi oggettivi, reali del diritto e della persona. Quindi speriamo di scavallare presto questo momento che davvero già non se ne può più. E che c'era Massimiliano Panarari, volevi dire qualcosa che anche Angelo Polimena volesse. Scusi, solo una cosa, l'onorevole Maiorino, che l'abuso della custodia cautelare, spesso e volentieri, non è solo una prerogativa ungherese. No, vabbè, la butta in cacciara, la butti in cacciara, morrone, la vuoi buttare in cacciara? Stiamo parlando dell'Ungheria. Guarda, non ti ho neanche interrotto, quindi non butti in cacciara. Sto parlando a livello tecnico perché penso di conoscere un minimo la materia e aver portato avanti, anche come Presidente di un comitato, alcuni referendum anche in Italia per garantire la produzione di innocenza. Falliti, referendum falliti che adesso state invece ripropinando sotto forma di decrete. Guardi, io conosco benissimo la sua posizione giustizialista. Ma quale posizione giustizialista? Lei non sa qual è la mia posizione, quindi perché mi attribuisce posizione. Ma va bene, va bene, cambiate idee molto velocemente. Io ricordo che c'è... Guarda, morrone, che sei tu che hai cambiato idea molto velocemente. Un attimo, facciamolo parlare e poi le repliche. Ci sono delle accuse per lesione aggravata, sembrerebbe anche un'organizzazione. Io dico, un insegnante, cosa va a fare in Ungheria e in questa situazione? Sei un turista del Ministero della Justizia. Ti stai sostituendo ai giudici? Io non mi sto sostituendo a nulla. Ti stai sostituendo ai giudici? Uno, è vergognoso. No, un attimo, una cosa pancata. Ma cosa, arrogante e presuntuoso? Arrogante e presuntuoso. Condanno quelle immogene. Non sono né arrogante né presuntuoso perché stavo parlando, mi è semplicemente interrotto. Ma avete fermato gli eventi. Vi prego, se parliamo di contenuti, sì, le cose personali, evitiamole. Parliamo dell'abuso d'ufficio che ha esittimato, che ha troncato la carriera di tanti politici, di tanti sindaci di questo territorio. Ma di errori giudiziari, scusi Morrone, di errori giudiziari è piena la storia di questo paese, quindi figuriamoci. Sì, voglio andare subito, adesso sentiamo tutti, però dalla senatrice Maiorino, perché insomma il Movimento 5 Stelle sorride la senatrice, ma insomma tutti conosciamo la vostra posizione, diciamo insiste da molto tempo affinché in primis l'Europa si muova, no? Da un punto di vista negoziale siete contrari all'invio di altre armi. Qui però ci sono proprio due visioni diverse, perché c'è chi invita il pragmatismo dicendo signori noi dobbiamo investire in difesa perché il mondo sta andando così. Allora mi lasci dire intanto su Meloni e almeno l'estratto di discorso che abbiamo sentito. Sì, è un discorso molto più lungo ovviamente. Grazie al cielo ci ha risparmiato insomma da questa buffonata di dubbio gusto a cui spesso molti non si sono sottratti di presentarsi in mimetica, quindi bene, questo io sono pronta riconoscerlo anche sulle parole che ha pronunciato. È andata a trovare il nostro contingente militare in Libano, cosa ci si aspettasse, si aspettava che dicesse, insomma è normale che vuole incoraggiare gli uomini e le donne lì che fanno un grandissimo lavoro. Questo va detto le nostre forze armate che io ho avuto occasione in più a circostanze di poter conoscere e sono davvero degni di tutto il nostro rispetto. Quindi distinguiamo la questione forze armate, discorso Meloni, che credo fosse un discorso doveroso in quelle circostanze, dal contesto in cui viviamo, dalle parole di Tusk, da quello che continuiamo a sentire tutti i giorni e dalle azioni che il governo sta mettendo in campo, cioè da finanziamenti continui che continuano a crescere rispetto alle armi, dalle richieste continue addirittura 10 miliardi, si parla di 8 miliardi per i leopard, cioè si stanno tagliando risorse a tutto il comparto invece del sociale, della sanità per andare incontro alle necessità e alle difficoltà dei cittadini per foraggiare l'industria bellica, che è altro. Quindi sono diversi discorsi da fare, un conto è il piano inclinato su cui ci troviamo che ci sta facendo scivolare quasi in maniera... cosa ha detto Tusk? È inevitabile, è ineluttabile, il destino di guerra è ineluttabile, tanto vale prepararsi. È spaventoso che il presidente di un paese europeo dica una cosa del genere, è assolutamente spaventoso, quindi questo da un lato. Dall'altro l'industria bellica è produttore delle armi che ovviamente si fregano le mani perché questo è il momento in cui possono chiedere e ottenere di più per le proprie produzioni e quindi stanno guadagnando in maniera espodenziale. Questa è una strumentalizzazione, non quella di cui parlavamo prima, questa è strumentalizzazione politica ai danni dei cittadini che non solo si ritrovano senza uno stato sociale... Adesso uno può credere o no alle minance, ma se Putin dice se gli ucraini avranno gli F-16 e li useranno contro di noi, noi saremo autorizzati a bombardarli anche in basi Nato, in aeroporti di paesi Nato. Io non so se Putin scherza o dice sul serio, non lo sa nessuno se Putin scherza o dice sul serio. Qui si parla di un piano inclinato, ad azione corrisponde una reazione, è ovvio, questa è una legge umana, è una legge umana, quindi cosa vogliamo fare? Continuiamo su questo sentiero che ci porterà lì e noi lo denunciamo, Pancani, noi lo denunciamo dal febbraio 22, cioè da quando Putin ha invaso l'Ucraina, abbiamo detto attenzione perché lo scenario su questa traiettoria è quello, è quello della terza guerra mondiale, siamo adesso a marzo 24 e tutti dicono oddio forse adesso la reazione quale potrebbe essere, le basi Nato se vengono bombardate, dove pensavate di andare altrimenti? Augurica, voglio chiudere, grazie a tutti i nostri ospiti, ci vediamo come sempre domani, grazie.